Ciao a tutti e stasera sono qui con Alessandro Villa che è un cantante ma è anche un musicatore sociale che provate a far lanciare messaggi di sensibilizzazione Usa la musica per lanciare messaggi di sensibilizzazione perciò seguitelo e soprattutto fate i complimenti, non dite le stupidaggini perché Alessandro è bravo, canta bene e ce la mette tutta e soprattutto vuole aiutare anche gli altri? Esatto, con me interi, perché io sono vivamente con queste delle difficoltà però a volte anche trovo Va bene, bravo Alessandro